Ciao ragazzi da due mesi praticamente che non ci gioco ho giocato qualche volta due partite due partite in questi due mesi avrò fatto quattro partite, cinque partite massimo al massimo qualche amiche comunque qualche altra partita a casa con qualche mio amico siamo in un video di Clash Royale dopo un botto di tempo quasi sono le maestrie cioè non so cosa sono vediamo cosa sono subito clicchiamo qua vediamo carta vincente ho fatto due vittorie apriamo sta cassetta qua e non trovo ovviamente nulla vediamo aggiungiamo difesa possiamo aggiungere una difesa mettiamo quelle di sempre di nulla eliminiamo poi aggiungiamo qua la difesa meglio così allora andiamo subito a giocare non gioco da due anni mettiamo subito con una partita dopo due mesi che non ci gioco mettiamo una speditore del ghiaccio golem lo mettiamo subito però lo mettiamo immediatamente subito dopo che l'ho preso andiamo subito all'attacco di peccati quanto è potente allaggato quando l'ho messo lol ok intanto abbiamo fatto un pochino di danni allora mettiamo i schelet buona fortuna io non ti dico niente zitto io non te l'augo la fortuna perché devo vincere io attenzione qua sta diventando molto pericolosa questa situazione meno male che ho ripreso i scheletrini comunque se sentite un po' di rumore che qua c'è la lavatrice un po' di rumore godo non ci credo mi sono salvato in extremis il tronco che mi ha salvato in extremis allora prendiamo il donatore vai no vabbè allora allora mettiamo il moschettiere uno due mamma mia quanto è forte il moschettiere distrugge tutti scheletrini super tattici spiritello di ghiaccio super tattico e tronco che mi salva in extremis comunque sto meme è mezzo morto cioè vabbè comunque sta bellissimo meme meme del 2021 sicuramente ok questo qua ha quittato godo non ci credo ha quittato mi fa quittare best canzone del mondo ovviamente dopo solo combo del gigante ha quittato quindi lul tronco vai stavolta non mi salva in extremis questo qui ormai ha quittato ma perché c'è la mia potenza è troppa è troppa e quindi ovviamente ha detto vabbè questo mi disintegra sicuro allora ha quitto ha quittato quindi godiamo un po' tutti mettiamo scheletrini tronco tutto vai 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 grande vittoria per noi questo video non era un video uno che magari lungo però era diciamo un video per ritornare su clash royale non so se ritorneremo a fare video intanto metto a sbloccare una cassa che è successo e quindi ho capito allora boh vabbè comunque mi hanno dato i livelli in più per le maestrie ok comunque vi viene in seguito nel prossimo video ciao